Ciao a tutti, oggi vediamo di analizzare molto velocemente Wells Fargo. Dunque, Wells Fargo probabilmente la conoscerai, è una società di servizi finanziari, opera in tutto il mondo, è una delle quattro più grandi banche degli Stati Uniti. Questo può voler dire tutto e niente, perché se conosci il mio metodo sai che non mi piace per niente investire in società nel settore bancario. Questo perché? Perché le vedo come società che comprano e vendono numeri su uno schermo. Semplicemente sono compagnie che vogliono i tuoi soldi per investire in operazioni finanziarie dove appunto si traduce il tutto con dei semplici numeri su uno schermo appunto, senza investirli magari, come preferisco io, in attività più materiali come potrebbero essere tipo una società di costruzioni, trasporti, ristorazione, telecomunicazione, società che danno veramente un vero valore aggiunto all'investitore. Comunque, andando ad analizzarla, come puoi notare, io ti ho messo dei nuovi termini per farti anche un attimino crescere per quanto riguarda appunto il lessico di questo mondo. Andando ad analizzare il fatturato, possiamo notare come in quattro anni si è cresciuto del 10%. E questo mi andrebbe bene se non fosse che l'utile netto, come puoi notare, è sceso invece dal 26 al 19. E, dato ancora più preoccupante, l'utile netto è sceso in quattro anni di quasi meno 20%. Ora, EBIT. Cos'è EBIT? L'EBIT semplicemente sono, in inglese, earning before interest and taxes, cioè sarebbero gli utili prima di pagare gli interessi e le tasse, diciamo. Ora, io ti ho messo dei dati tra un anno e l'altro, ma la cosa che dovrebbe saltarci più all'occhio è l'aliquota. Quindi, praticamente, notiamo come questa società, nonostante l'utile netto scenda, quindi da 23 miliardi a 18 miliardi in quattro anni, paga sempre più in termini di tasse. Ok? Quindi è passata da un 29%, con un utile netto dal 23, nonostante l'utile netto scenda, lei paga sempre più in termini di tasse. Profitto lordo, che mi aiuta a calcolare il margine di profitto lordo, che era abbastanza palese che fosse così alto, perché tutti i servizi finanziari hanno queste cifre di margini lordi. Dato molto più preoccupante ancora, invece, sono i debiti, il debito corrente e il debito a lungo termine. Questo perché? Perché in quattro anni questa società è passata da avere un debito da 63 miliardi a 103 miliardi, quindi è salito di circa il 62%, il debito corrente, mentre il debito a lungo termine è salito in quattro anni del 22%, che ha avuto una leggera pressione del 12% dal 2016 al 2017, ma ha comunque avuto un incremento del 22% in quattro anni. E questi dati potrei ancora, tra virgolette, capirli se ci fosse un aumentare dell'utile netto insieme ai fatturati, cosa che invece non avviene. Anzi, abbiamo un'utile netto che è sceso dal 20%, nonostante il fatturato sia salito del 10%, che voglio dire, non mi serve a niente che mi fai salire i fatturati del 10%, se poi gli utili netti, che sono quelli che poi contano, scendono del 20%, soprattutto se poi il debito, sia il debito corrente, sia il debito a lungo termine, mi continua a salire. Quindi io personalmente, ti ripeto, ci starei alla larga da questa società, un po' perché è una società bancaria, quindi nel settore dei servizi finanziari, e un po' perché non mi dà quella sicurezza, ci sono troppe cose che mi fanno storciare il naso. Spero che questa analisi ti sia piaciuta, o comunque ti abbia dato modo di imparare nuovi termini o nuovi modi di ragionare rispetto a prima. Se vuoi sapere ulteriori dettagli, quindi ulteriori termini, ti invito a scaricare i miei materiali che puoi trovare sul mio sito. Se vuoi che venga analizzata una società in particolare, scrivimelo nei commenti, ti saluto e ti auguro tanti buoni investimenti. Ciao!